Musica Ciao siete già qua Eeeh stavo aspettando la ghis ma vedo che non arriva Quindi potrei cominciare da solo Quindi bello a tutti ragazzi Oddio Oh merda Bene a tutti ragazzi io sono Gisios E io sono Alex E sono scappato dal mostro che voleva sopra Bene ok Che era questo al contrario Questo al contrario perfetto Ok oggi siamo sullo speciale di Halloween Giusto? Dove ho messo i miei occhiali Dove ho messo i miei occhiali? Eh vabbè e non ci vedrà per niente Ecco non ci vedrò che bello Eeeh siamo sullo speciale di Halloween Quindi oggi è il 31 di ottobre giusto? Sì perché lo dice il calendario Sì lo dice il calendario Non gli crediamo al calendario E oggi quindi esce uno speciale che ho montato Oggi Cioè Intanto che io giocavo A Minecraft con Cece Questo lo saprete però in futuro Quindi non dovevate saperlo in realtà Ma chi sapete? Questo speciale ragazze a differenza di quello dell'anno scorso Non riguarderà tre nuovi horror O un nuovo horror O leggere un fumetto horror No Sono delle clip Che abbiamo scelto io e Ale insieme Con i best spaventi Quindi ci vediamo più tardi Più tardi per concludere sto video Per concludere A dopo Io guardo giù Guarda su Prova guarda su Bello Bello Ma che continuiamo così Corri Corri dove? Non lo so No 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 la dossa lui Ah vero Corri indietro Prova a correre indietro Oddio Fai un culo E' un fantasma Sono vicini ai 50 C'è Dopo che c'è il primo salutaggio Beh vicini Dai dai Una zucca Una cazzo di zucca Mi ha fatto vedere un infarto Sembra che qualcosa La sto tocando Ah ok Quindi me ne vado Oh no Cazzo Fai un culo Mi ha un putto a pezzo Merda Ho tirato un calcio Allora che mania Sono Sono completo La mia vita è completa Che cazzo Si è fermato Che cazzo c'è Boh Trovate un sasso Non lo so Dai muoviti amico Che cazzo c'è No No Quanti cazzo sono Guarda 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 Sbara qualcosa Ma quante c'è Ok Qua ci sarà l'infarto Qua credo che ci sia Credo No No Libro Libro Tranquilli Libro Fragioni I see you I see you I you Chi mi vede Non posso Oh Grazie Mi vedi Quello lei Ah no Un occhio a pace Così a caso Bene Ecco Perché magari Lei è sempre la brutta La bella E' normale che E' normale che quando Entri nel senso Gli spengo Parcheggio Piano di sopra Improbabile Continua a correre O forse questo è piano terra Non ci sa Oh porca pittana cos'era Ma sembra la zia Peppina Ma cosa Vai a fare il caffè Mi sono preso un infarto Adoro guardarti No 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 Sono sexy Sono sexy Calvi 36 Fate arrivare le 4 filtro 39 39 30 Lo volete prima Io non lo volevo Tu non volevo No 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 Allora Veramente Stiamo per inseguire Un tizio brutto brutto In un corridoio Io non lo farei Quindi Se mai è lui Che insegue noi Secondo la logica Si è vero Non ce l'ho pensato Sei che sei Ma perché hai la bocca? Perché hai l'occhio al posto della bocca? La bocca al posto della bocca? Non l'ho capito Ok, guarda Oddio, dov'è? Dov'è? Dove cazzo è? Sento che sto vedendo Ma non c'è un cazzo Sembra che sta guardando No, ti sbagli, non ti sta guardando San Martin Scott Attenzione Ma quanto è sexy quella lì Ok, devo svitare di ficcani Non posso più capire da nessuna parte, io ho paura Sì Oddio, cade Ma che bella gonna, dove l'hai comprata? Dove si apre? E' anche un logo Che schifo è quello E' un granchio con un naso Con c'è anche la bocca Che schifo è? Cos'è? Con un naso e... Blocca, fai qualcosa Oddio Cazzo Ma cos'è? E' un pene con delle spine Con delle... Branche da... Ok, guarda Hai capito cos'è? Come ne vado via Oddio quanto è brutto Dove dobbiamo andare Eh, aspettiamoci brutte cose Cazzo, cazzo Satana Satana Io me ne vado Impressore Me ne sta mandando Eh, ma vedo che mettete in ordine le cose come faccio io a casa mia Mi piace molto il vostro design Molto Mi sa che... Oh, il diavolo Alziamo Lo cominciamo Gesù Again Ancora? Sono felice che tu sia qui ancora Ah, ragazzi probabilmente adesso ci giriamo E c'è C'è uno spaventare Quindi noi E se no Ciao, quanti siete amici miei? Eh, sì Salve a tutti Allora, mi dovete quel soldi Mi ha avventato un po' No L'ho usata troppo volte No No Il cicali vero, il cicali vero No E perché non ci... No 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 Aspetta Aspetta cosa? Cosa? Cos'è? Eh... Eh... C'era qualcuno richiesto alla cassa 4 ma... Basta No No Troppe cose 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 Perfetto ragazzi Se siete sopravvissuti ai primi 20 Perché non hai gli ultimi 5 Giusto? Esatto Però qua Inizia Il vero terrore Il punto di non ritorno È ora Cioè per noi Perché ci siamo cagati addosso Sì Quindi siete ancora in tempo a mettere in pausa il video Ed andarmene Da YouTube Da YouTube Veramente Da YouTube Da YouTube Ma noi sappiamo che siete coraggiosi quindi proseguite pure Quindi Ci vediamo Dopo le ultime 5 clip Ciao Ciao Sono io Esci 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 Perché Perché ce n'è uno dietro E c'è uno davanti Cioè c'è quello davanti Dopo se tu scappi indietro C'è quell'altro dietro E poi c'è No Porco assento Ti sento tanto Mi sto Se c'è uno Dietro Ce n'è uno davanti No E che ho schiacciato Il tasto per la corsa Il tasto per la corsa Ha fatto così Crescito Cioè Non è che c'è l'uno col pendolo di fuori Che ti vuole Eh Beh Mi sono Mi sono Mi sono Mi sono Mi La cosa che mi preoccupa Non so Non tanto Non posso Ma le palle che ci sono per terra Oh Ma Già Oh Già Ma Calma 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 Stiamo bene Stiamo bene Fermo Fermo Io ho paura che se tutti i giubi E se tutto ne andrà giù Ah No No Ah E' finita E' finita E questa non è una storia vera Mi fa piacere Bene Fine Una porta Una porta Non me l'aspettavo per niente Non me la ricordavo La porta Questa La porta Ma No 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 Troviamo piglie così in giro Su scatole su per terra Oh merda Beh direi che se siete sopravvissuti all'ultimo 5 clip basta Cioè siete dei pro Siete dei po Po wow Pucciang Cing Tang Mazinga Z E' proprio la descrizione perfetta Pucciang Puzzing Puttan Mazinga Z Perfetto Niente questo speciale di Halloween finisce qua Speriamo che il video vi sia piaciuto E che vi abbia anche spaventato Vabbè a parte il fatto di spaventarci Per noi ragazzi è stata un'esperienza fantastica Rivedere tutti questi spaventi Alcuni sono video vecchissimi Tipo di un anno fa Siamo a 295 iscritti ragazzi Cioè Non vi contiamo più ormai Quindi a breve probabilmente faremo uscire un video Speciale 300 iscritti Esatto Se volete consigliate Che speciale far uscire Sotto a questo video Oppure in un vlog precedente O su un commento più semplicemente Fate come volete Comunque ragazzi Noi vi saluto in realtà Quindi Voi vi saluto Saluto a metà Saluto a metà Noi vi salutiamo qua In pap punto Noi vi salutiamo qua Quindi ragazzi Se il video vi è giusto Nel momento Mettetevi in piace Iscrivetevi E noi ci vediamo nel prossimo video E Buon Halloween Bella ragazzi Grazie 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 Grazie